È da qualche giorno che non pubblico video perché onestamente ho poco di intrigante da raccontarvi. Vrestalmenia 40 si sta ormai componendo in tutte le sue parti e ora c'è questa lunga attesa prima del grande evento. Come una cisterna, no? Che si sta riempiendo d'acqua e prima o poi scoppierà. Mi ricorda quell'odore di resina e di clorofilla che oggi non sento più ma che percepivo nelle pinete al mare in vacanza da bambino in attesa che da ponente arrivassero grandi nuvole grigie cariche di pioggia. Tra le cose più interessanti di questo momento c'è una video intervista realizzata con Mike Shosha che prendendo spunto dall'uscita di WWE 2K24 ha fatto due chiacchiere con me e con il Godzilla Luca Franchini. Se vi va, eccola qua, la vedete? Recuperatela sul suo canale YouTube e magari nei commenti chiedetegli più contenuti con noi o sulla WWE visto che ne è davvero appassionato. Sempre con il Frank posso confermarvi che sabato 11 maggio sarò alla Milano Comics and Games che troverà collocazione a Malpensa Fiere. Il nostro intervento è previsto nel pomeriggio. Sarò più chiaro nelle settimane a venire, sarò più preciso. Pare comunque certo che ci saranno anche dei mini show di wrestling italiano. Dunque potete prendere due piccioni con una fava. Quindi mail, Frank, sentire cosa abbiamo da dire, ci sarà sicuramente un momento meet and greet e poi vi godete al massimo tutto il resto della Kermess. Capitolo da WWE a Bologna, me lo chiedete in tanti, pubblicamente o privatamente. Sicuramente stiamo ancora attendendo informazioni sicure. La percentuale di una nostra presenza è in aumento, ma in situazioni come questa è sempre meglio attendere delle certezze. Dunque abbiate ancora un pizzico di pazienza. E per oggi ho già terminato. Eh sì, vi ho dato solo qualche comunicazione, ma era per non interrompere il legame, il filo che ci unisce. Quindi ricordatevi di lasciare un like al video, di seguire il canale, se ancora non lo state facendo, e di continuare nell'azione di condivisione dei contenuti TV che riguardano D-Max. Perché mollare adesso sarebbe proprio un peccato. Ciò detto, vi lascio la parola, come al solito, qui sotto, con dita roventi, nello spazio dei commenti.